Un mese di tempo per studiare le normative sugli enti locali e decidere una linea da seguire sull'incompatibilità del primo cittadino di Salerno con l'incarico di Vice-Ministro all'Infrastrutture e Trasporti. Alla fine il dodicesimo punto all'ordine del giorno del lungo ed intenso Consiglio Comunale del Capoluogo è stato rinviato alle prossime sedute della Sise Cittadina. Occorrerà quindi attendere ancora per capire le mosse della maggioranza. Dopo sei ore di discussione animata, ieri sera intorno alle 22, il Consiglio ha adottato un documento presentato dal Capogruppo dei Progressisti, Luca Sorrentino, per chiedere un ulteriore approfondimento sulla questione. A votare la proposta di rinvio della discussione 23 consiglieri, oltre a quelli di maggioranza anche Pachimemoli ed Anna Ferrazzano, critiche del resto delle opposizioni. A questo punto la discussione dovrebbe passare alla Commissione Statuto. Se entro tre consigli comunali non sarà avviato l'iter, il prefetto potrebbe intervenire dichiarando lo scioglimento. Questa mattina il consigliere di opposizione Celano ha chiesto l'intervento del prefetto sulla vicenda incompatibilità, definendo indecente lo spettacolo offerto dai progressisti e dalla maggioranza in Consiglio Comunale. Al tempo stesso l'esponente di Fratelli d'Italia ha chiesto ai parlamentari di incontrare l'Epte e Dalfano per chiedere di imporre il rispetto immediato delle norme da parte di chi, ricoprendo cariche istituzionali e apicali, dovrebbe rappresentare un esempio di correttezza e legalità. Ieri comunque ad animare il Consiglio sono stati anche altri punti all'ordine del giorno. Ha provato senza particolari clamori il bilancio consuntivo con tre astenuti, Cammarota, Memoli e Gagliano e tre voti contrari, Celano, Adilolfi e Zitarosa, con Ferrazzano che è uscita dall'aula. Nella sua relazione l'assessore al bilancio Buonaiuto ha precisato che l'amministrazione comunale ha recuperato tributi evasi per 1.200.000 euro per la Tarso e 400.000 per Lici. Inoltre Buonaiuto ha sottolineato la riduzione dei fitti passivi passati da 50 a 37 con un risparmio di 440.000 euro. Frecciata la regione Campania, chi ha detto Buonaiuto, si è comportata come un minollo e deve al comune di Salerno 28 milioni per attività anticipate. Il consigliere Celano, invece, dai banchi dell'opposizione ha ricordato che il conto consuntivo si è chiuso con un disavanzo di 6 milioni di euro. Per questo, qualcuno ha aggiunto, scappa da questo ente lasciando il comune ed andando altrove perché la barca sta per affondare. Ancora più intensa la discussione sul progetto di ristrutturazione dello stadio Vestuti, sollevato dal presidente della Commissione Trasparenza, Salvatore Gagliano, e che aveva scatenato l'ira di parte della tifoseria della Salernitana nei giorni scorsi, preoccupata per la possibile demolizione della Curva Sud, dopo la relazione dell'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio e del consigliere comunale di maggioranza Domenico Galdi, è stato direttamente il primo cittadino, in precedenza assente, a chiarire la questione, intervenendo in Consiglio Comunale e di fatto correggendo quanto discusso in Commissione Urbanistica. De Luca ha ribadito la pubblica utilità dell'intervento che dovrebbe portare alla costruzione a detto di 300 posti autointerrati, consentire la delocalizzazione del mercato rionale di Via Piave e riqualificare gli impianti sportivi presenti nello stadio. Il sindaco ha anche chiarito che il progetto reso noto dai consiglieri Celano e da Dinolfi è soltanto uno tra quelli presentati, ritenuto comunque il più sostenibile, e che l'impresa che si aggiudicherà i lavori dovrà impegnarsi a salvaguardare le gradinate della Curva Sud, così come richiesto dai sostenitori Granata. Alla fine la votazione non ha riguardato il progetto, ma soltanto la pubblica utilità dell'intervento di riqualificazione del Vestuti.